Lo scontro politico e istituzionale, la tensione, insomma, tra toghe e politica che va avanti ormai da tempo, rallenta le riforme di cui il Paese ha urgente bisogno. Questo il grido di allarme lanciato oggi sia dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, che dal primo Presidente di Cassazione, Giorgio Santacroce. L'occasione è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma ci sono dei temi che non possono aspettare come quello delle carceri. Dobbiamo avviare, ha detto il Ministro di Giustizia, una profonda revisione del modello di detenzione. Grazie all'ultimo decreto carceri, ha ricordato la Cancellieri, le presenze nei penitenziari sono scese a 61.619, circa 7.000 detenuti in meno di tre anni fa. In attesa delle riforme, aggiunge Santacroce, per ridurre il sovraffollamento nelle carceri non c'è altra via che l'indulto. Un pensiero del Ministro Cancellieri e anche ai magistrati minacciati dalla mafia dopo le intercettazioni del boss di Cosa Nostra Ariina contro il PM Nino Di Matteo. Il Governo ha detto non mancherà di garantire loro il livello più adeguato di protezione. Passi avanti importanti sulla strada della riforma giudiziaria sono stati fatti, li ricorda sempre Santacroce, come la Commissione ad esempio istituita presso il Ministro della Giustizia per snellire il processo civile e smaltire l'arretrato. Per quanto riguarda il penale, il Presidente di Cassazione cita anche le iniziative per restringere i casi in cui ricorrere alla custodia cautelare. Santacroce lancia però l'allarme e prescrizione. Diversi organismi internazionali, ricorda il Presidente di Cassazione, deplorano l'alto percentuale dei delitti di corruzione prescritti. Per quanto riguarda i reati, dice Santacroce, sono diminuiti drasticamente. Gli omicidi abbiamo raggiunto il tasso di frequenza più basso degli ultimi 150 anni, mentre sono in aumento i reati contro il patrimonio, i furti negli appartamenti incrementati dalla nuova povertà e dalla costante diminuzione dell'opportunità di lavoro. Dal Procuratore Generale della Cassazione Gianfranco Ciani, una difesa dell'operato della magistratura che può aver fatto degli errori, dice Ciani, ma nell'operato delle toghe non c'è mai una finalità politica, un lavoro importante che però deve essere svolto sempre nel massimo riservo, lontano dai riflettori. Grazie a tutti.